Ciao ragazzi, dalla vostra cubra Intermania. Innanzitutto volevo ringraziarvi degli iscritti che stanno continuando a crescere, comunque ragazzi volevo cogliere l'occasione visto che ho saputo una novità e una notizia, la sapevamo da un po' di tempo ma Buffon si ritira. Nonostante comunque la rivalità tra l'Inter era la Juventus nonostante tutto, comunque io volevo parlare appunto di questo argomento, secondo me comunque continuo a dire che Buffon è come nessuno mai, Buffon comunque chiude secondo me un'era storica, perché comunque giocatori come Buffon, come Totti, come Del Piero, come tantissimi altri giocatori che comunque hanno segnato una generazione del calcio di una volta, un calcio diverso da quello che si gioca ora, una mentalità, un gioco, comunque un'energia diversa da quella che comunque esprimono i giocatori dell'epoca nuova. diciamo. Quindi nonostante la rivalità, un grandissimo e caloroso abbraccio a Buffon, che comunque secondo me è stato uno dei migliori portieri al mondo, se non il portiere migliore al mondo. E ragazzi nonostante che sta la Juventus, comunque abbiamo ricordato tantissimi bellissimi ricordi nella nostra nazionale italiana, quindi cioè voglio dire Buffon italiano è comunque, è comunque una nostra eredità, un'eredità che comunque è volto alla fine. Quindi ragazzi un abbraccio caloroso a Buffon. Grazie a tutti.